ecco qui abbiamo usato gramponi per fare una prova di grip come potete vedere funziona qui possiamo vedere come grippano però è sempre bello come si aggrappano e si incastrano bene guardate è uno e due e tre è tutto semplice l'importante è avere o le cose come queste che trasformano tutti i tipi di scarpe in scarpe da scalata in poche parole scarpe da montagna oppure avere le scarpe da montagna dipende dai gusti esatto in più ci sono anche quelli come questi ma personalizzati potete vedere sono quasi alla metà e ho quasi raggiunto il picco ale però devi andare di qua prima e poi salire sulla qui certo che proprio ci ti diverti e ale io mi diverto io sono attrezzatissimo questo è un panorama bellissimo è un panorama è un panorama è un panorama per qui il sentiero si fa un po più facile dai che siamo a buon punto è un panorama è un panorama è un panorama è un panorama Raggiungi la croce? No, ho avuto questi pochi panchini, avrebbero ragione, c'era una panchina di rocce. Wow, c'è anche il vento qui. Eccoci, siamo sulla montagna, ce l'abbiamo fatta, qui adesso c'è uno sciame di formiche, maschi, che stanno uscendo fuori dal coso, siamo circondati da un panorama bellissimo, oggi meno male che è bello nuvoloso e quindi... ciao! Ciao! Non si vede niente e si sta belli freschi. Siamo alla croce. Ale cosa ne pensi della tua prima croce? Beh, bella. Questa scalata com'è stata? Ottimo, adesso bisogna scendere un casino. No, adesso andiamo a mangiare. Sì, però poi bisogna scendere un casino. E poi scendiamo, che problema c'è? Bene, dai, ottimo. Salutiamo a tutti. Ciao e buona prossima avventura. Allora, abbiamo provato il primo giro di trekking e questo è il risultato. Come vedete, le parti di plastica si sono consumate. Ma nel caso si danneggiavano, i danni erano seri, abbiamo già come sostituirli. Esatto, in tutti i casi però i tacchettini si sostituiscono perché... Nel caso non ne abbiamo più, ne compriamo altre. Hanno funzionato tutto sommato, quindi sei c'è. Chiaramente bisogna prendere le misure giuste per queste calzare così. Io ho avuto un po' di problemi. Sì, perché se ce l'è un po' più piccolina... Sì.